Ciao belli, bentornati sul Punto di G, io sono il vostro G e oggi è il giorno. Oggi, 8 dicembre 2020, viene messa in vendita la nuova RX 6900 XT, top di gamma della serie RX 6000, le nuove schede grafiche di AMD appunto. Oggi cercherò di prendere in live con voi, sul canale Viola, il cui link trovate in descrizione, questa scheda grafica, ovviamente venduta e spedita da AMD, e sarò in live con Marco di MV Hardware. Saremo in live dalle 14.30, quindi ragazzi, mi raccomando, venite a trovarci. Ma adesso devo farvi un po' di precisazioni. Perché prendere una RX 6900 XT rispetto alla 3080, che è ancora ordinata dal nostro caro e beneamato Drago.it? Eccovi un paio di giustificazioni, possiamo dire un paio di ragioni. La prima è il prezzo. Ragazzi, io ho comprato una RX 3080 Asus Rogue Strix o sì? Se andate a vedere sul stilo di Drago adesso, costa quanto una RX 6900 XT? Penso di aver detto RX 3080, invece una RTX 3080. Perché prendo comunque la RX 6900 XT? O almeno ci proverò? Perché il prezzo è lo stesso fondamentalmente, stiamo parlando di due chip estremamente diversi. La 3090, la top di gamma di Nvidia, va davvero neck and neck, come si dice in inglese, con la RX 6900 XT. Quindi, allo stesso prezzo, cercherò di prendere una scheda grafica che va proprio meglio di suo. Oltretutto, da alcune indiscrezioni che abbiamo visto nei giorni scorsi, sappiamo che la RX 6900 XT può raggiungere i 3 GHz di frequenza, questo da software. Io credo che con un overclock manuale potremmo riuscire a raggiungere, non so, i 2.8 GHz? RX, magari stabili, 2.7? Non lo so, cercheremo di giocare un pochettino con queste impostazioni, una volta che la scheda sarà tra le mie mani. Per tutti quelli che dicono, oh sei un idiota, sei un illuso, non ce la farai mai a prendere la RX 6900 XT? Beh, la RX 6800 XT e la 6800 sono rimaste sullo store il giorno di lancio per un bel po' di tempo, un quarto d'ora, 20 minuti, più o meno, diciamo un quarto d'ora, dai, per essere cattivi. Ma era possibile prenderle. Io conosco persone che seguono il canale, che seguono il mio canale viola, che l'hanno presa, ce l'hanno, le stanno provando, ci hanno giocato e dicono che sono fantastiche. Perché poi prendo questa qui al posto della 3080, voi direte, guarda le RX 6900 XT e la 6800 XT faranno schifo il raytracing. Ok, questo qua c'è da dire che forse è vero, ma vi vorrei ricordare che questa è la prima iterazione del raytracing che AMD sperimenta proprio mai nel corso della sua storia, e invece Nvidia è già arrivata alla seconda dopo due anni di sperimentazione. Io oltretutto non gioco tantissimo in raytracing, quindi ok. Oltretutto io ci devo anche streammare, ci devo fare content creation con quella scheda grafica. E voi direte, sì, ma fino adesso sei stato a dire che praticamente riserviva la RTX 3080 per i vari vantaggi che dava in questi task. Io ho un processore a 16 core, che va benissimo sia per lo streaming sia per il rendering, quindi beh, ok, finché non esce qualche implementazione software, io continuerò a streammare e a registrare con solo la forza brutta del processore, ragazzi, perché una 2080 e un 16 core di AMD il 3950X, per quanto riguarda il rendering, beh, stanno davvero così. Questa è la differenza di tutte e due, cioè c'è tanto di differenza, davvero nulla. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo acquisto, ho fatto bene, ho fatto male, io credo di aver fatto bene. Spero comunque di questo, spero questo acquisto, ecco, perché non ce l'ho ancora tra le mani, ma spero di riuscire a prenderla. Vi chiedo di venire appunto sul canale Viola, è sempre in descrizione il link, darmi supporto, perché male che vada sarò molto triste. Invece se tutto va bene sarò molto felice, quindi ci sarà una live molto molto interessante. Detto ciò, ci vediamo oggi alle 14.30 sul mio canale Viola e, beh, buona fortuna a me. Ciao!